Parte il progetto Nuovi Alberi. Grazie all'impegno dell'Associazione Talea, assieme a Comune di Lucca, alla Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, alla Fondazione Banca del Monte di Lucca e a 12 sponsor, presto, entro la primavera 2021, saranno messi a dimora 1.250 nuovi alberi per assorbire le emissioni e favorire la biodiversità. Per noi è una grande realizzazione perché sappiamo quanto gli alberi servono alla tenuta dell'ambiente, servono all'ossigenazione, servono per la trasformazione di alcune sostanze come l'etride carbonica in termini positivi, per cui abbiamo oggi questa notevolissima opportunità. I ragazzi dell'Associazione Talea un anno fa ci hanno proposto questo progetto che prevede la messa a disposizione di aree comunali per la piantumazione di specie arbore particolarmente indicate per l'assorbimento di CO2 e PM10. Abbiamo lavorato un anno per fare tutte le procedure amministrative per mettere a disposizione queste aree, abbiamo anche dato un contributo economico e abbiamo lavorato per fare insieme a loro il coordinamento dell'iniziativa. La prima fase si concentra su due terreni comunali, la zona lungo fiume a Monte San Quirico e quella dietro la scuola Custer De Nobili a Santa Maria Colle, ma l'impegno dell'associazione punta all'acquisto e al mantenimento di oltre 2.500 esemplari di piante. Il primo progetto è venuto abbastanza naturale, era quello di piantare alberi sui terreni della città e di fatto da un anno che ci stiamo lavorando e abbiamo messo insieme il progetto Nuovi Alberi, in cui nei prossimi tre anni verranno piantati 3.000 alberi nelle terreni che l'amministrazione comunale ci ha concesso per 10 anni.